...ci sono gli appoggi di contenitore, lo sport torna a essere protagonista per il 17esimo incontro al femminile, 3 round da un minuto e mezzo. Ehi, Fittalini! Vai, Ciarline, lunghe i colpi! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! Brava! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! Ehi, Fittalini! E finisce così il primo round con la sua alta! Secondo round! Un minuto e mezzo! Vai, Ciarline! 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 Fai! Fai! Parti! Attacca! Ancora! E finisce! Vai Ciali! Prima in pugni! Venga! Ancora! Ancora! Attacca! Vai in corrente! Vai! Voli in faccia! Preghetti! Ancora! Vai nel maco! Vai Ciali! Vai Ciali! Voli in faccia! Ancora! Vai Ciali! Toro in faccia! Vai! Carica i colpi! Vai! Carica i colpi! Vai! Chiudi con le gambe! Vai! Essi dall'alto! Essi! Brava il gioco! Vai! 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 Non è più! Tira! Chiudi con le gambe! Ancora Charlie? Ancora? Vai! Ancora! Non ti fermare! Vai! Chiudi con le gambe! E finisce questo diciassettesimo incontro tra Fomorino e Martina. Vince angolo, rosso, Solerina, Martina! L'applauso del pubblico, ovviamente per Martina, le foto di Vito. L'applauso va anche per Carlo Lotta. Grandissimo incontro, molto bello. E questo è il punto che io amo particolarmente, lo scatto delle medaglie. Perchè!